Nel 64 c'è solo l'attività da artigiano per dei motivi non di lavoro, che lavoro ne avevo parecchio, ma per i motivi purtroppo avevamo avuto un incidente sul lavoro in uno stabilimento di Vado ed era morto un operaio. E da quel motivo lì dopo un anno ho smesso l'attività. I miei dipendenti che avevo li ho sistemati tutti, chi in ferrovia, chi da una parte, chi dall'altra, chi ai carbonifossili, li ho sistemati tutti e poi ho cessato l'attività. Dopo che sono entrato a lavorare nel tassi, nel primo mese sono entrato come operario, come manovale. Dopo un mese mi ero passato al caporeparto della saldatura e dalla sbavatura dei metalli in ponderia bronzo. Nel mio mio non ero più artigiano, perché prima di tutto il lavoro di tre, parlandoci chiaro, il lavoro di otto ore di un artigiano, un operaio vital sider che vuole dieci giorni. Io a fare quell'ozio da capo ancora a stare a guardare a lavorare gli altri, per me era una tortura. Io ho preso tre giorni di sospensione dal direttore, ingegnere Parazzi, perché mi ha trovato a lavorare. E io dicevo, ma che colmo è? Un operaio, un capo che si mette a lavorare e gli date tre giorni di sospensione. Ma uno che lavora gli date tre giorni di sospensione. Non devono lavorare se hanno dei dipendenti o degli operai capaci a lavorare e capaci a gogiare quel lavoro lì. Invece quel lavoro specifico di saldatura dei metalli è una cosa molto difficile. Se uno non sa le temperature che si scalda, gli elettrodi di tipo di elettrodi adoperare e tanti altri colori del metallo, non si può lavorare. Io dovevo insegnarli. Io poi avevo fatto varie modifiche di lavoro su questo, diciamo, sulla cassetta di rame, che le avevamo saldate per recuperare da tutti gli scarti, che lo scarto delle cassette di rame. Nel bronzo no, non c'erano questi grandi scarti, ma nel rame specialmente c'era un enorme scarto. Scarti nel senso che facevamo delle cassette che dovevano contenere dell'acqua a pressione, a bassa pressione, ma insomma acqua per appredamenti degli altri forni. E perdevano. Erano tutte groviera dentro, erano vuote, erano piene di aria, perché non erano fatte bene. Comunque io avevo trovato un sistema che quelle poche che venivano discretamente, che però perdevano, le scricavo, le facevano in cavo, le riportavo, le battevo, le riportavo con della saldatura e venivano buone. Allora poi hanno cominciato però, dal 10% che io recuperavo non gli bastava più la direzione, hanno voluto l'85%, l'85% era da buttare, perché non si poteva recuperare, era lo scappo loro. Sono entrato nel 65, i primi del 65, sono andato avanti sino al 71. Poi basta, ho cessato l'attività perché io non ero fatto per stare in quegli ambienti lì. Però io ho sempre avuto dei contatti meravigliosi con l'Ital Sider, difatti dopo, nell'80, mi hanno dato in consegna tutto il circolo Ital Sider, che è una palazzina di 2.000 metri quadrati di cose, con due campi da tennis, 12 campi da boccio, una pista di patinaggio, e me l'hanno consegnata a me, mi hanno detto, tu gestisci e la vai avanti. E io, insomma, io e mia moglie abbiamo gestito questa cosa, un lavoro stupendo, a me piace moltissimo stare in compagnia, avevamo 4 miliardi, una biblioteca che a me mi strappa al cuore, che si è andata persa, una biblioteca enorme, comunque di volumi, dei volumi anche antichi di un certo valore, che sono stati sprecati. Quando ero andato via l'Ilva da Savona, dove io avevo il circolo, un giorno mi arrivano e mi dicevo, l'Ilva da Savona non c'è più, ma come non c'è più? Qui devono pagare le bollette dei cosi, della palazzina, pagare le tasse delle cose. Insomma, io ho finanziato tutta la palazzina in circolo per un anno, ho preso 20 milioni di bollette, perché sennò ci tagliavano la luce, ci tagliavano il gas, poi mi sono stati restituiti da zero. Io ero artigiano, lavoravo per l'Ilva, per il tassino di Savona e per l'Ilva, per il tassino di Vado, che facevamo delle lavorazioni per i binari, per gli scambi, facevamo delle stappe un po' particolari. Questo è il lavoro che facevamo noi, per Vado. Per Savona invece facevo i lavori di manutenzione su tutto lo stabilimento. Allora si lavorava tutti i sabati e le domeniche, specialmente quando c'era una fermata del Cubilotti, della fonderia, si entrava dentro con 45-50 gradi di temperatura, si entrava dentro a tagliare col cannello, con la fiamma, con la lancia termica, a tagliare i blocchi di ghisa che rimanevano dentro al Cubilotto. E allora la temperatura andavamo anche sugli 80 gradi, facevamo delle tute termiche perché sennò ti bruciava la pelle. Però nonostante questo gli acidi, i fumi c'erano che davano molto fastidio. Però poi insomma avevamo delle lavorazioni che si lavorava bene, sempre nella polvere di fonderia specialmente, eravamo sempre nella polvere di fonderia, specialmente sui caroponti, andavamo a fare la manutenzione dei caroponti, o alle ruote, ai cuscinetti, o ai motori, o ai carelli che non andavano, perché erano carelli cariponti che portavano delle sighiere, che erano delle tonnellate con della ghisa fusa, perciò dovevano andare come orologi quei carelli. E se non scorrevano bene, se si muoveva, guai, era un disastro. Abbiamo sempre lavorato molto bene e molto onestamente noi e l'Ital Sidere, perché l'Ital Sidere io chiedevo e loro mi davano, non mi hanno mai detto è troppo, è poco, ero io che facevo il prezzo per l'ora dello stavolimento. E poi c'erano tutti gli interventi di notte, gli interventi di giorno, secondo gli interventi che c'erano loro si chiamavano, siamo sempre andati un'altra volta, ma avanti bene. Certamente che prima, nel periodo dal 50 al 60, che ci sono stati tutti i licenziamenti, che c'era anche mio papà che lavorava lì, e abbiamo dei problemi enormi. perché io mi ricordo da ragazzo, io lavoravo, allora lavoravo perché la mia famiglia e mio papà erano stati un esiliato di guerra, un esiliato politico, allora avevamo un po' le sicurezze economiche. Il mio fratello studiava da periodo, io dovevo lavorare, mia mamma faceva la portinaia in un palazzo che per contribuire a guadagnare qualche cosa tirava avanti la famiglia. Sul discorso degli anni precedenti, che io ero bambino, diciamo parliamo del 44, partiamo di lì che io so poco, perché non è che da bambino, però i motivi, i selezionali degli operai, le proteste contro il fascismo, contro le cose, si sapevano e le sentivi perché allora io abitavo in via Pia e le sentivi quelle cose, però non è che sappessi tanto, nel frattempo era stato anche allontanato da casa. Sono stati tempi molto brutti, molto duri perché non si sapeva neanche cosa mangiare da quei tempi. Posso dire che io andavo con la gavetta, andavo dalla mensa dell'Ilva che ogni tanto qualche donna mi dava qualche mestolata di minestra, per noi era una festa a casa mangiare quella minestra. Nel 45 poi quando è ritornato mio papà è andato, è ritornato a riprendere lavoro all'Ilva, perché nel frattempo, scusate ma faccio un salto indietro, nei tempi lì non lavorava più allo stabilimento ma lavorava con la TOT, era un'impresa che lavorava per fare le protezioni antisbarco, i campi minati, per punizione dato che lui era politica contraria alla gestione di allora l'avevano mandato per punizione a fare questi lavori, insieme a tanti altri perché nell'Ilva ce n'erano parecchi di amici di mio papà come lui e peggio di lui anche, sistematiche, tanti sono andati in Germania e non sono più ritornati. Mio papà ha avuto la fortuna che è stato mandato all'isola d'Elba, ha avuto delle fortune che poi erano, perché poi quando è riuscito a scappare l'8 settembre è andato a finire, è stato preso dai tedeschi all'8 settembre in Toscana, è stato mandato, doveva essere mandato in Germania e invece è riuscito a scappare dal treno e poi si è fermato su nei partigiani delle Alte Langhe di là, sino al 45. Poi dopo il 45 è ritornato a mio papà, ha ripreso il lavoro all'Ilva insieme a tanti amici, però ne mancavano tantissimi che non sono mai più ritornati e tanti quei pochi che sono ritornati, amici suoi, sono morti dopo un po' di anni che erano ritornati dai campi di concentramento, o quelli che hanno continuato come gli albisetti ad esempio, che ce n'erano due fratelli che erano stati deportati tutti e due in Germania ed erano ritornati a lavorare alle Talcider, ma erano talmente malconci, poveracci che dopo un po' di tempo sono mancati. E mio papà invece ha continuato a lavorare sino al 60, perché allora non c'era solo l'Ilva, c'era la c'era i grossi scioperi. E lì, caro mio, cosa abbiamo visto? Lacrimogeni dalla mattina alla sera, bombe, tiravano quasi tutto, guarda, dei manganelli di tubi di perro, c'era la gente che spaccavano la testa, eh? Botte da Orbi, le donne dell'Itolata, le donne dell'Abiense, le mogli dei operai con i bambini che protestavano perché perdevano, insomma su 7.000 ne hanno accettato 5.000, eh? Non scherziamo, eh? 5.000 dipendenti lasciati strada, ma perciò avevano, come la gente ha pronto là, i sindacati che facevano quel che potevano per tenere insieme tutto. E allora il sindacato non era diviso come adesso, il sindacato ce n'era uno solo, c'era la CGL, era tutto conglobato lì, insomma, era forte. Però era forte perché venivamo su anche da una guerra, e venivamo su che c'erano i vecchi partigiani ancora che tiravano avanti. Sulla questione dell'Ilva di Savona ci sono dei tempi purtroppo che noi da ragazzi, per noi era tutto l'Ilva perché avevamo il papà che lavorava lì o lo zio, io ne avevo due zii che lavoravano lì dentro, avevano dei cugini che lavoravano lì dentro, avevo degli avici che lavoravano lì dentro. Insomma, a volte sentendo suonare il fischio dell'entrata delle due, dell'entrata delle due e l'uscita delle due, il fischio che suonava la sirena, che era la sirena degli allarmi, quando suonava l'alarme per l'Ilva, perché c'è anche da dire questo, che l'Ilva è sempre stata, non so se è stata fortunata nel senso della stazione di Savona, ma posso dire che l'Ilva ha subito pochi bombardamenti dentro lo stabilimento. Chi ha subito, ha subito di fuori, al di fuori tutta via Gramsci è stata distrutta, il porto è stato distrutto, però come stabilimento è stato colpito poco. Era un punto definitivo sentire quella sirena e vedere questa uscita, una massa di uscita di gente che era enorme, perché uscivano fuori 2.000 operai, 3.000 operai per turno, uscivano fuori dall'Ilva, era una marea in Corso Mazzini e sulla terrazzetta era una marea di gente, sia di mogli che aspettavano i mariti, c'era una marea di gente e allora macchine non ce n'erano, o a piedi o bicicletta, la trazione più tanta era la bicicletta, passavano sotto dalla terrazzetta o di sopra, insomma il lavoro era tutto lì, ecco si svolgeva tutto lì, perciò per noi era tanto, già quando si era a lavorare in giro noi ragazzi che si sentiva la sirena, ci davano un segnale che c'era la gente che lavorava, ma anche noi erano l'ora di smettere.